Teatro Municipale di San Paolo per Guarani di Carlos Gomes. Carlos Gomes, un compositore brasiliano che si è formato comunque in Italia al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano, grande amico di Giuseppe Verdi e ha scritto quasi tutte, anzi tutte le sue opere in italiano, come il Guarani, il Guarani con libretto di Antonio Scalvini e Carlo Dormeville nel 1870, la prima a Teatro La Scala il 19 marzo del 1870. È ambientata a Rio de Janeiro e nei dintorni del 1560. La storia di Don Antonio e sua figlia Cecilia, di Gonzales e Peri, ambedue innamorati di Cecilia. Dopo varie vicissitudini, Peri viene arrestato, Cecilia viene presa dagli indigeni, Don Antonio alla fine li salva tutti e due, morendo insieme a tutti gli indigeni che li tenevano prigionieri. Questa è un po' la storia concisa. Lo spettacolo di questa sera è uno spettacolo un po' controverso, classico, moderno, una commistione tra arte contemporanea e appunto dei video, delle proiezioni della vita degli indigeni. La regista Civelle Forias si è presa un po' la libertà, ha inserito nell'ambito dello spettacolo dei momenti indigeni con dei canti, con delle ballate che non c'entrano nulla naturalmente con la partitura di Carlos Gomez. Però comunque lo spettacolo è piaciuto tantissimo. Il teatro sold out al 70-80% di giovani, cosa che manca in molti teatri. Per cui questi giovani hanno applaudito, hanno festosamente accolto tutti e tutti i quadri dell'opera, ma in particolar modo appunto questi inserimenti vocali che non c'entra niente con la partitura. Allora, intanto citiamo il gas, il dettore era Roberto Minkzuc, il peri era Enrique Bravo, Cecilia era Deborah Faustino, Gonzales Davide Marcondes, Chachin Licio Bruno, Antonio Andrei Miera, Don Alvaro Guglielmo Moreira, Rui Berto Carlos Eduardo Santos, Alonso Gustavo Lassen e Pedro Orlando Marcones. Ho dovuto leggere perché appunto i nomi sono al 100% brasiliani. C'è un grande successo, il pubblico è stato un trionfo appunto sia all'opera di Carlos Gomez sia all'allestimento della signora Sibel Forias. Noi vi salutiamo, ci troviamo ancora in Brasile col Festival di Manaus. A presto! Siamo con Andrea Caruso, la direttrice del Teatro Municipale di San Paolo, per raccontare la visione scenica del Guarani, di cui vi ho già parlato, un allestimento articolato, un allestimento con tanti compromessi, però la direttrice, Andrea, ci racconterà come è nata questa produzione, che cosa vuole dire la produzione di questi inserimenti che abbiamo visto appunto di queste danze tradizionali. Grazie, adesso vado, penso di parlare italiano. Bene, benissimo, comunque parli perfettamente italiano, tranquillo. Un portugliano, un portugliano. Dunque, l'idea di fare questo Guarani è stata così. Il maestro Roberto Minciunchi mi ha chiesto, mi ha detto, ah, c'è da tanto che non facciamo Guarani nel teatro municipale da più di venti anni, e dunque voleva farlo, perché c'è Carlo Svomi, da Brasile, c'è una bella musica, e volevamo farlo. Però c'è un problema, che da anni che sono passati, c'è la storia, la narrativa di questa storia del Guarani, diciamo che era da un punto di vista, che quando è stato libretto a parte dell'opera del libro di José de Alenca, che raccontava una storia, cioè che era una epoca, che raccontava di un modo che per i giorni, cioè oggi, non fa così tanto senso. Certo, diciamo che voi l'avete un po' attualizzata, comunque rimanendo nella tradizione. Rimanendo, sì, perché non l'abbiamo interferito nella musica né nel libretto, però abbiamo portato in scena un'altra perspectiva, insieme a quella di Carlos Gomes e del libretto, cioè abbiamo portato la perspectiva dei Guarani, dell'indigena, del popolo originario di Brasile, che c'è, perché questa narrativa che si conta da tanti anni, e poi i Guarani, i primi accordi dell'opera, sono diventate quasi un nino in Brasile, perché fanno l'apertura del programma ufficiale del radio. Dunque ogni giorno alle sette della notte si sente questa musica in tutti i radio di Brasile, c'è l'ora di Brasile, l'ora di Brasile, e poi c'è, si racconta l'ufficiale del Facebook tanti anni fa. Dunque c'è anche quello, che si sente quello e poi si va a raccontare una storia ufficiale. E per i Guarani sono quelli che vivevano lì, dove è il teatro municipale oggi. Dunque in San Paolo ci sono tanti Guarani, ci sono ancora più debinte alle... come si diceva, dove vivono le... Sì, da che capanne? Le capanne di Guarani, da partutto lì in San Paolo c'è una presenza importante. e dunque siamo andati lì e parlati, però per quello, per cominciare a vedere come farlo, c'è un comitè curatoriale nel teatro, gli abbiamo invitato a Iuto Trenachi, che è un pensatore, un filosofo indigeno, che ha fatto questo lavoro di concepzione generale. E' integrato, devo dire, molto 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 bene, perché, diciamo che, nonostante non sia nella partitura di Gomez, però uno spettatore che vede lo spettacolo rimane coinvolto comunque di tutto lo spettacolo, no? Sì, sì. Cioè quello è stato, per Ailton Trenachi, un punto di partenza molto importante. che voleva rimanere lì l'opera, il libretto, la musica, per aggiuntare con la posta scenica una perspectiva indigenista dell'istoria. Sì, sì. E c'è la storia del Guarani, che alla fine non è veramente un Guarani una storia, perché c'è il titolo dell'opera che è Guarani, e poi quando è arrivata a Sibeli Foro-Giass, la regista scenica, la direttora scenica, lei ha avuto questa idea di fare un doppio, un doppio di perì, una doppia di sessì, la coppola di amore lì. E quando abbiamo parlato con l'attore, che è un Guarani, e lui ha detto, la prima cosa per me, che è un Guarani, non andai da solo, non vieni da solo. Io se vengo, devo venire con il mio popolo. Certo, è bellissimo. E dunque abbiamo portato questi Guarani, che sono i Guarani di Jaraguacchia, dove sono loro, nella città di San Paolo, dove sono le indigenze, è un quartiere, appunto, nella città di San Paolo, e lì loro hanno formato questo fuoro, gli orchestra, Guarani, che dobbiamo dire anche che i Guarani, quando sono arrivati i gesuiti in Brasile, loro hanno scoperto, nelle Guarani, una grande capacità di fare i... di fare i... come si dice? No, di fabbricare le... Ah, di costruire. Di costruire, erano i propri brasi di fare. Certo. Dunque, hanno cominciato a fare gli strumenti, e per quello oggi c'è la Rabecca, dunque l'istrumento dei Guarani, che loro hanno impecciato a utilizzarla dopo, con la ruta dei gesuiti qua, perché erano bravissime da fare. Cioè, c'è un momento, che venevano gente da partito, per vedere come loro facevano gli strumenti. Dunque, tutto quello per dire e che questo faceva senso da avere un'orchestra e un coro Guarani, perché loro con la voce, che hanno visto, cioè, sono bellissimi. E dunque abbiamo portato quello insieme e trovato un modo di mettere insieme due perspective della storia. Dunque, la narrativa che cambia, cioè, al finale, non è che cambia la musica, No, no, infatti no. Non discorre. Non discorre la musica e il libretto, però fa un'altra perspectiva dell'opera, che è quello che vediamo molto importante, perché oggi, nelle giorni attuali, cioè, la importanza indigena è cambiata, il mondo è cambiato così, per noi è cambiato così tanto, perché ci sono, abbiamo adesso un ministero, ministero? Un ministero indigena in Brasile, c'è una presenza dell'indigeno in tutte le istituzioni, molto più forte, molto più organizzate, degli artisti, dei pensatori, dei professori, e di tutto. Dunque, faceva senso di fare un Guarani anche con questa perspectiva così importante. Una visione completa di quello che è il giorno d'oggi e, a maggior ragione, l'inserimento dell'arte contemporanea, perché ricordiamo, poi lo racconterò sul mio articolo sulla rivista L'Opera, prima di iniziare l'opera, ma comunque durante l'opera c'è un artista che disegna sul sipaglio e poi queste figure che girano per il teatro, è una cosa coinvolgente. Sì, è questo artista che fa, di Pintoli, che fa l'immagine, è Denil Sombaniwa. Denil Sombaniwa è oggi un artista molto importante, un artista visuale, molto importante, indigenza contemporanea. Lui fa esposizioni dappertutto, fa... c'è un'opera molto transversale anche. E lui c'è un... tra d'altro, fa un lavoro bello con... vedi questi... il disegno, il disegno che faceva come Debrello, faceva come facevano il disegno dell'epoca che venivano in Brasile e era scoperto Brasile da questo disegnista che facevano tutto il disegno. Lui fa una revisione di questo disegno, fa come una marca, un'imprima alcune altre cose in questo disegno che c'era solo una visione, una perspettiva. Lui apposta nel disegno, riprende il disegno originale e poi fa una copia e poi di lì fa una marca. Quello che abbiamo chiesto a lui era di farlo con l'opera, di leggere quest'opera, capire quello che si raccontava e poi cosa voleva lui fare lì, quali marca voleva mettere, cosa che voleva interferire lì. E ha cominciato a creare tutto questo universo e c'è un universo immagetico di sogno, di idee che ti portano i guarani e anche tutte le indigeni che non c'era in l'opera. Si raccontava una storia di un incontro di amore tra le indigeni bianche, però solo da una perspettiva assolutamente bianca, non c'era niente di altro mondo lì e lui ci ha portato. E devo dire che il lavoro è riuscito benissimo. Sì, lo trovo molto bello anche. E devo dire che ha intergermato molto il pubblico e questa è una piccola domanda che ti faccio, Andrea. Il pubblico è giovanissimo rispetto agli altri teatri, noi stessi in Italia, dove il pubblico è abbastanza agire, ho notato che a San Paolo il teatro era quasi esaurito di giovani e questa è una cosa molto bella. Il vostro pubblico è molto giovane. Sì, devo dire che c'è un pubblico abbastanza giovane, c'è un po' di tutto, c'è anche, fa delle tante differenti, però abbiamo una grande parte del pubblico tra 30 e 45 anni, più o meno, una grande parte e poi anche più giovane, poi anche il fatto che noi facciamo opere con una, tracciamo sempre qualcosa che sta passando in una società, portiamo cosa, lettura di posta in cena, una cosa contemporanea e c'è anche la novità delle cose e tutto, dunque la gente e tutto quello con una qualità anche molto bella, che c'è un'orchestra bellissima, un maestro, un coro dei cantori bravi, dunque fa di un modo che tentiamo di fare ogni volta molto, è fatto bene e con molta qualità che così la gente piace e puoi ritornare, no? Certo, certo. Io ti faccio i miei più grandi complimenti di questo tuo lavoro, di questo nuovo percorso tra il municipale che nell'immaginario collettivo il Brasile, Rio, San Paolo per gli artisti internazionali, per i grandi artisti era una meta irraggiungibile ma dopo loro si sentivano a casa propria, è un po' come mi sento io a casa mia in Brasile perché sono fra 18 anni che vengo in Brasile e il percorso nuovo che sta facendo il municipale è su questa strada e ti devo fare tanti tanti complimenti. ringrazio tantissimo e tra l'altro hai superato anche la buona prova dell'italiano, avete sentito come parla perfettamente l'italiano la nostra direttrice. Beh, sei un gentile. Grazie e a presto. Grazie mille, a presto. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.